Ciao a tutti ragazzi, oggi giochiamo ad Among Us Allora, vi farò vedere, andiamo Guardate Scusate, guardate Oh mamma mia, ma non è che si vede tanto, eh? Cioè, direi Io stavo guardando i video di Anita Stories Perché io sono una fan Come potete capire Una fan di Anita Stories Ma che canzone sto cantando? Vabbè sto cantando una canzone a casa Che non è neanche una canzone Dai, un po' veloce Ma sei veramente lento Oppure, no, oppure niente Ok ragazzi Perfetto Allora ragazzi Prima che inizi Mettiamo il telefono qua Così potete vedere Esatto, potete vedere tutto Ragazzi, invece io Allora, qua è un po' sporco Ma, ok No, forse qua non va bene È troppo lontano dal telefono Mi siedo dalla seconda Oh mio Dio ragazzi Cosa sta succedendo? No raga Io sento dei rumori strani Che voi non potete neanche capire Perché io sono a casa da sole Quindi voi non potete neanche neanche immaginarsi Immaginare Allora, aspettate ragazzi Che scrivo il mio vero nome Che mi chiamo Stefania Ragazzi Vi darò il codice Per entrare Però non so se ci sono gli altri Perché Non penso perché poi Ok Vi darò il codice Eccolo qua il codice Non so se si vede Ma questo è il codice Potete entrare qua Prende Oh l'arancione mi sta bene Solo che vorrei cambiare colore Raga No vabbè Non scherziamo Dai eh Eh Per forza Ragazzi Entrate subito Vi darò il codice Questo qua Provete entrare Io ragazzi La chat Cioè Qua è chat inglese Perché Vabbè Niente Go Qua Il Il rosa ha scritto Go Vuol dire Forza Possiamo partire Però non lo so Cioè No Go vuol dire Andiamo Go L'ha scritto un'altra volta Ma guardate Nei commenti Guarda C'è scritto Go Non so se riuscite a vederlo Ma c'è scritto Go Go c'è scritto Perfetto Ho l'ansia Ragazzi Ho l'ansia Cioè Aspettate che stoppa il video Raga Sta già partendo Guardate Non sono l'impostore Meno male Io non vorrei essere Ok Andiamo Ho l'ansia Ragazzi Ho l'ansia Perché il viola mi segue Oh mamma mia Mica mi vuole uccidere Ok Mi ha ucciso Mi ha ucciso il viola Chiamate Mi ha ucciso Sono diventata fantasma Cioè Mi ha ucciso Sono Vedete questo coso verde Sono diventata fantasma Cavolo Viola Non devi farlo questo Eh Cattivo Devo aiutare A completare I test Perché se no L'impostore vincerà Quindi aiuta le persone Ok Andiamo Eccolo Cattivo Sei Chiamate Chiamate L'emergent Non so come si dice Ah Ma tu Quando diventi Un fantasma Ai commenti Guarda Avete dei commenti Voi si può scrivere Però scriverò Ho paura Guardate Adesso Devo completare Qua Devo Un'altra Questa è veramente facile Facilissimo Completato Mi dice che devo andare Da questa parte Il viola è il sospetto Porta Porta Miseria Già Già che ho detto la parolaccia Non va bene Figuriamoci una parola Test complete Perfetto Devo trovare un altro tasto Per completare Forse ho completato No Ho perso Ho perso Viola era l'impostore Ho perso Va bene Complimenti Viola Sei stato molto bravo A vincere Che bello Tra un po' la partina La partina La partita Inizierà Quindi Ragazzi Vedete Io sono quella Fucissiam rosa Guardate Sono io quella Scusate raga Ma devo stoppare Ecco il Pink Il viola Dice il pink Oh che carino Eccola che è Che contento Ragam Sì Quello sto facendo Eccola Wow Però tu me l'hai scritto Lombissimo Se me è possibile Sembra che è possibile Quando inizia la partita Cioè Stiamo a 3 di 4 Guardate 3 di 4 Dobbiamo arrivare fino a 4 Questo Tipo questo qua Ragazzi Ah vi devo dire una cosa Dopo mi Devo fare un altro video con voi Perché Dopo Devo registrare E vi farò vedere come si farà Quindi Ragazzi Si può dire che il video si concluderà Perché non so quando è netta la partita Adesso Dovrò fare un altro video con voi Quindi collegatevi subito Che lo farò con voi Lo farò con voi E quindi collegatevi Ciao Al prossimo video Ciao